La cosa privata, quel giorno c'è già la luce, fai il bifo, mi chiede con i miei guardi. Mi chiede con i miei guardi. Ciao. Ciao. Sì, sapeva il nostro numero a memoria. Sì, certo. Il suo dipartimento fa quello che può. Sì, certo. Sì, certo. Sì, certo. Sì, certo. Sì, certo. Grazie a tutti.